Ciao ragazzi e ciao bambini! Io sono Johnny e oggi, come vedete, non mi trovo nello studio del Gormiti Show. Sono qui perché voglio farvi vedere un giornalino, un magazine, ma non un magazine qualsiasi. Proprio questo, il Panini Magazine dei Gormiti. Voglio farvi vedere cosa contiene e soprattutto tutte le sorprese. Guardate un po'. Ed ecco qui ragazzi il volume numero uno del Panini Magazine dedicato ai Gormiti. Insieme al giornalino troviamo Vulcan in un'edizione limitata, quindi mi raccomando lo troverete tutto dorato. Insieme troviamo due bustine di card. Queste non sono le card dei collezionabili, sono card diverse che poi vi faremo vedere anche nei prossimi video. Ma oggi voglio soffermarmi soprattutto sul magazine. Però prima voglio farvi vedere una cosa. Il giornalino poggia su un cartonato. Guardate ragazzi Panini come ha realizzato nel dettaglio questo meraviglioso sfondo. E' qualcosa di incredibile. A me ha colpito tantissimo perché poi si può anche utilizzare come poster. Ma ora vi faccio vedere cosa troviamo all'interno del Panini Magazine. Lo apriamo. Allora, nella primissima pagina troviamo la linea giocattolo di giochi preziosi. Ne troviamo solo alcuni di quelli che potete trovare nei negozi. Poi abbiamo un indice dove ci va a raccontare cosa troviamo. Dai collezionabili, ai fumetti, ai giochi, al nostro Gormiti Show, la natura, i giochi, poster, poster, giochi, fumetti, gioca con noi, giochi, la posta dei fan, i gormiti online, gli anteprime. E ci ricorda Vulcan in versione Gold. Ragazzi, in questo giornalino non si smette mai, mai, mai di giocare. Ma giriamo che scopriamo un po'. Troviamo i collezionabili. Ragazzi, domanda. State collezionando tutti i collezionabili? Se sì, scrivetelo qui sotto nei commenti anche quale vi manca e quale vi piace di più. E qua ci ricorda che possiamo trovare Lord Carion d'Oro, Lord Tritio d'Oro, Vulcan Gold. Poi abbiamo i fumetti, ragazzi, sono stupendi. C'è una cura del dettaglio, ragazzi, che è veramente qualcosa di grandioso. Sono storie inedite, quindi storie mai viste e sono veramente dei fumetti molto molto divertenti. Qui troviamo due fantastici giochi. Allora, il primo bisogna sfidare Lord Voidus. Io non so se ne sarete in grado, ma ci potete provare. So che è molto difficile, lui è molto forte. E qui abbiamo un gioco con Titano. Meno male che non c'è Giada nei paraggi, perché sennò, ragazzi, chi la sentiva più? Lo sapete che... Titano, Giada... Andiamo avanti che è meglio. Qui troviamo l'intervista del Gormity Show direttamente dal nostro studio. Vi raccontiamo tante curiosità, ci sono state fatte delle domande molto divertenti. Quindi mi raccomando, non perdetevi questa fantastica intervista. Poi giriamo e troviamo una sezione fondamentale che a me piace tantissimo sulla natura. Dove possiamo imparare tantissime tantissime cose. Poi c'è una sezione che a me diverte tantissimo, perché ricorda quando ero piccino, quando ero piccolino, che guardavo un programma che si chiamava Art Attack. E io la chiamo sezione Art Attack, perché in questo caso, ragazzi, bisogna costruire il bracciale degli elementi. Se volete, mandateci anche una foto, perché così vediamo come è venuta la vostra opera d'arte. Poi abbiamo un bellissimo Zephyr da colorare. Poi abbiamo due poster. Allora, questo è uno. E questo è l'altro. Ora non lo strappo, ma sono due. Poi abbiamo un bellissimo labirinto. Ancora dei fantastici fumetti. Guardate, ragazzi, sono davvero stupendi. E poi c'è la sezione disegno. Ecco, qui se conoscete dei bambini o il vostro cuginetto, fratellini, se avete figli, ma anche adulti, perché tutti possono disegnare, non c'è un'età. Potete mandare il vostro disegno cartaceo e qui abbiamo l'indirizzo, c'è scritto come fare, perché se siete fortunati potete vincere un fantastico premio. In questo caso, ragazzi, abbiamo Piron, questo leone stupendo, che è l'Hyper Beast di Riff. Poi abbiamo altri giochi stupendi. C'è la sezione disegni con le vostre lettere. Quindi mi raccomando, ragazzi, Panini, poi li pubblica, pubblica i vostri disegni. Guardate che belli sono. Poi giriamo. Infine troviamo un riassunto sull'app dei Gormiti. Visto che ci mandate anche tantissime domande su come utilizzare l'app, su come utilizzare il sito dei Gormiti. Direi che Panini ha fatto centro anche questa volta, perché ci racconta in un modo molto schematico come fare a utilizzare queste piattaforme. E infine, ah, ci ricorda che nel prossimo numero, ta-dam, Tiffon Gold. E io trovo molto simpatici questi disegni, perché si possono ritagliare e metterli sulla porta. Quindi questo è per chi, per chi magari ha il fratellino che vi fa i dispetti, il cuginetto che vi fa i dispetti. Anche la mamma che non volete farla entrare nella camera, appendete questo davanti alla vostra porta così, con un lord del genere. Come fa a entrare? Non ci provare? Vietato entrare? Non si passa? Non puoi entrare? Ragazzi, è veramente qualcosa di fantastico. Aspettate che giro la telecamera, così vi guardo e vi saluto. Eccomi qui ragazzi, vi saluto appunto chiudendo questa diciamo recensione del Panini Magazine, dicendovi che è davvero un magazine stupendo. A me è piaciuto davvero tantissimo. Panini, ragazzi, ha fatto un capolavoro, ha curato nel dettaglio il giornalino dalla prima all'ultima pagina. Tra i fumetti, i collezionabili, giochi su giochi, i poster da appendere, come creare il berciale degli elementi. Ragazzi, mi raccomando, prendete anche voi il Panini Magazine. E soprattutto fatemi sapere se anche a voi vi è piaciuto il giornalino. Scrivete qui sotto nei commenti cosa ne pensate, cosa vi è piaciuto di più, insomma, i vostri pensieri. Io adesso vi saluto e ci vediamo nelle prossime puntate con il Gourmeti Show. Ciao ciao!